video misterioso ragazzi registrato da una coppia di amici che stavano facendo una passeggiata tra le montagne del texas qui potete osservare questo essere un po' strano per certi versi mi sembrava un gorilla una scimmia ma invece non lo è almeno da quello che mi hanno detto quelli che mi hanno mandato il video io come sempre chiedo a voi secondo voi che sarà una scimmia un gorilla o cos'altro ragazzi quindi datemi una mano a risolvere quest'altro enigma perché sinceramente non riesco capire cosa sia l'ho rallentato al massimo giumato al massimo più di questo non riesco quindi chi è di buona volontà lascia un commento e mi dica che cosa sia e come sempre dico ragazzi al prossimo video ma soprattutto ragazzi al prossimo mistero